per la prossima partita del napoli colleghiamoci subito con antonio petrazzuolo dopo le fatiche di champions si torna in campionato c'è la gara di verona contro il chievo il napoli proverà a vincerla questa partita e quindi dovendo dare un pronostico 1x2 per questa sfida dove è probabile anche che ci sia un po di turnover dico chiaramente due quindi prevedo anche un napoli che vuole continuare la scalata al campionato di serie a e lo farà con il solito grande impegno antonio secondo te sarà una partita con tanti gol quindi un over oppure con pochi gol e quindi un under storicamente nelle passate stagioni questa è stata sempre una sfida di dal difficile pronostico soprattutto in termini di gol quindi ne abbiamo viste sempre delle belle e in alcuni casi anche delle sconfitte del napoli però è io io voglio continuare sulla sul trend dei tanti gol e quindi dico over e come sempre ragazzi ricordate puoi scommetterci su unibet alla prossima ciao 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 ciao